wow ciao amici wow cammina cammina passo dopo passo sono arrivato qui non scherzo nel dire siamo alla porta dell'inferno e sì perché io sono già entrato dentro non vi dico le sensazioni che ho avuto nel stare proprio lì all'interno di questa grotta sembra di trovarci veramente all'inferno sensazioni strane forti dei brividi proprio di freddo che non so spiegarmi ma certamente le sensazioni forti che ho avuto sono quelle di non sentirmi mai sembra veramente come se all'interno ci sia qualcosa qualcuno ancora presente l'energia è tanta e quindi penso di fare un'indagine accurata molto approfondita peccato che oggi sono anche solo perché sia il tecnico che la mia assistente che tra l'altro poverina una lussazione a un piede e quindi ha bisogno di qualche giorno di riposo e la settimana prossima avrò anche Diego che lo conoscete ormai anche il tecnico del team quindi che mi farà spesso compagnia e quindi adesso io vorrei farvi vedere soltanto per un attimo l'interno di questa grotta immaginate come se ci sia scritto qui sopra all'entrata della grotta lasciate ogni speranza voi che entrate guardate siamo veramente all'inferno non mancano pipistrelli che mi volano sopra la testa e guardate guardate wow siamo veramente all'inferno wow questo pipistrello che mi girunzo la sopra ho il cappello però a difendermi bene amici adesso vi lascio vi ho fatto vedere anche questo posto e cosa dire che alle volte noi tanti miei amici diciamo non vorrei definire colleghi perché insomma definirli colleghi insomma è un impegno abbastanza gravoso e però vedete c'è chi va in qualsiasi luogo abbandonato e ovunque come ho scritto ieri sulla pagina del mistero di facebook insomma ovunque vanno trovano fantasmi, zombie, demoni tanto per far divertire la gente e io dico ma la coscienza non lo hanno non ce l'hanno la coscienza ebbene come vedete dovete sapere che nei luoghi veramente inaspettati ci possono essere delle sorprese eh per chi fa veramente ricerca non è detto che questi fantasmi queste entità paranormali si possano trovare soltanto in quei luoghi tipo castelli abbazie insomma dove vanno questi basta che vedono un palazzo una casa abbandonata e ci fanno la ricerca e lì c'è il fantasma oppure anche uno scantinato un bagno un magazzino abbandonato insomma ci trovano oppure dei ruderi di un luogo fantasma diciamo sapete quei ruderi di dove c'erano le città fantasme ecco e ci trovano di tutto ci sono quelli che pur di fare i video vanno lì e trovano di tutto ebbene forse quello che noi cerchiamo è proprio in luoghi come questo o anche in mezzo alla strada sotto casa però la ricerca è serietà è verità non è fare semplicemente un video tanto per tanto per per oppure acquistare visualizzazioni come i like come faccio a saperlo e lo so lo so lo so lo so lo so amici non credete alle pandonie non credete alle menzogne non credete a tutto ciò che vi viene eh fatto intendere attraverso dei video su youtube fate attenzione non credete a scatola chiusa i fantasmi a prova contraria non esistono anche se io ne sono convinto ma non ho le prove nonostante tanti anni di lavoro nonostante anche qui ho delle sensazioni nonostante faccio delle fotografie strane nonostante ascolto eh la voce di qualcosa che mi sta parlando nonostante tutto questo non ho le prove concrete non ho le prove concrete quindi perché prendere in giro la gente ma molto spesso mi è capitato che quello che oggi può sembrarmi un fantasma un qualcosa di paranormale di non essere solo all'interno di in questo caso di questa grotta e poi dopo qualche mese o addirittura anni mi rendo conto che non era così ma era la stessa natura la stessa grotta che mi ha creato queste sensazioni ecco bisogna fare molta attenzione nel dire nel dare per certo la presenza di entità paranormali non è così non facciamo video solo per avere lacchi solo per far vedere siamo americani no? siamo americani facciamo quello che hanno fatto gli americani che quando sono venuti qui uuuuh gli hanno detto di tutti i colori trovavano fantasmi da tutte le parti ma quello era era una trasmissione televisiva eh insomma ce ne vuole tra trasmissioni televisive e la vera ricerca no? non trovate? bene amici per oggi ecco è anche durato abbastanza questo video io ecco vi faccio soltanto vedere dintorni guardate che sembra veramente di stare non voglio esagerare in Amazzonia sono in mezzo a una foresta in alto io vado sono così sono un pazzo io vado a cercare le cose più strane ma sempre e comunque nei luoghi che in passato in passato in passato sono luoghi molto vissuti sono stati e quindi dove essendo luoghi vissuti si può avere la possibilità di avere qualche riscontro eh non si può dove non sono vissuti eh insomma si ci può essere molto qualcuno non lo so forse sono andati in velleggiatura sì perché per molti i pantalmi vanno anche in velleggiatura li vanno presso anche dentro casa dentro le bambole insomma da tutte le parti se vanno al bagno anche al bagno insomma dai mi faccio una risata io tante volte ho guardato i video di alcuni che sono anche amici miei insomma mi viene da ridere mi viene veramente da ridere amori amori miei sveglia 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 non vi fate prendere per i fondelli anzi denunciate segnalate la devono smettere questi cantastorie ciao amici a presto ciao ciao